Crossroads, narrazioni al crocevia. In questa puntata cosa vogliamo vedere negli aggiornamenti di Hogwarts Legacy di quest'estate e nel prossimo sequel? Hogwarts Legacy ha venduto qualcosa come 22 milioni di copie nel 2023, diventando il gioco più venduto nel corso dell'anno in molti paesi, tra cui gli Stati Uniti, superando tra l'altro i soliti bestseller sportivi e i grandi classici presso il pubblico più vasto come Call of Duty, Fortnite, ecc. Ha venduto più dell'ultimo Zelda, ha venduto più dell'ultimo Final Fantasy, ha venduto più di ogni action RPG uscito nel corso del 2023. Ci si aspettava sicuramente un grandissimo successo, vista l'IP da cui è tratto, ma si è andati ben oltre le aspettative, nonostante inoltre, comunque, la pesante e spesso anche un po' ridicola nei modi, campagna di boicottaggio portata avanti a cavallo della sua uscita. La cosa più assurda di tutte è che questo spettacolare successo non è stato capitalizzato. A differenza di molti altri giochi simili, non abbiamo avuto espansioni, non abbiamo avuto DLC che fossero gratuiti o a pagamento. Sicuramente questi DLC avrebbero fruttato bei soldini in un modo o nell'altro alle casse di Warner Bros. Games. Invece, zero totale. Non ci aspettavamo espansioni importanti, ma sicuramente qualche missione aggiuntiva, altri costumi, altre cavalcature, niente, niente di niente. Abbastanza inspiegabile, a meno che tutta la forza lavoro di Avalanche sia rimasta concentrata sul seguito. Ancora non annunciato, ma letteralmente inevitabile. Dopo mesi di silenzio, ecco ora arrivare sui social una dichiarazione ufficiale che promette non solo l'arrivo dei contenuti precedentemente esclusivi per PlayStation, anche sulle altre piattaforme, ma anche non meglio specificati aggiornamenti e funzioni. Il tutto è in arrivo quest'estate. I dettagli arriveranno in seguito. Ma di cosa si tratterà? Bella domanda. Io è da quando l'ho recensito in anteprima, lo scorso anno, che mi ronzano per la testa tutta una serie di possibili migliorie che vorrei vedere nel gioco e che, fra virgolette, pretendo nel sequel per dargli giustizia. Perché Hogwarts Legacy, secondo me, è un gioco molto bello, a cui purtroppo mancano alcuni fondamentali. Se ci fossero quei fondamentali, si potrebbe mangiare tanti altri giochi. Ed è un peccato, perché avrebbe potuto brillare non solo a livello di vendite, ma anche a livello di struttura in sé per sé in un anno in cui sono usciti tantissimi bei giochi. E spero che in futuro si possano raddrizzare un po' di storture o si possa porre rimedio a queste manchevolezze. Ora io ve le elenco tutte queste cose che vorrei vedere implementate nel gioco o quantomeno vorrei vedere implementate in un sequel. Se avete altre proposte, altre idee, naturalmente siete liberissimi, anzi vi invito a farlo, a commentare sotto al video e vediamo se eventualmente ne possiamo anche discutere in un altro video. Chiaramente cominciamo col dire che tutti vorremmo ancora più magie nel gioco. Non sono poche le magie presenti, ma ne vorremmo ancora di più. Più magie d'attacco, più magie di difesa, oltre che anche magie di utilità, chiamiamole così. Sicuramente servirebbe una revisione degli allocamenti degli slot, perché una rottura dovrà momentaneamente riallocare alcune magie quando dobbiamo catturare un animale fantastico o spazzorarlo, o dargli da mangiare, oppure riparare un ponte con reparo, eccetera. Le magie di utilità dovrebbero avere comandi univoci separati, richiamati come si fa con la ruota degli item, ad esempio. E poi, poter richiamare il padronus sarebbe una cosa stupenda, sicuramente. E già che ci siamo, non sarebbe male, anzi sarebbe una mano santa, avere un sistema di lock al bersaglio che funziona, perché purtroppo spesso si perde per strada il lock nel gioco base. Punto 2. Quando si crea il protagonista, si dovrebbero poter scegliere alcuni tratti distintivi, chiamiamoli di classe, come l'essere nobile o plebeo, puro sangue, mezzo sangue, nato babbano, con differenze relative a quello che potrebbe succedere in corrispondenza di ciò. Un po' come in Cyberpunk 2077, che se cominci in un certo modo, ti si aprono delle route e se ne aiutano altre. A questo si ricollegherebbe un sistema di classi o job, chiamiamoli così, un po' come nei JRPG, con i personaggi che si specializzano magari in diversi rami della magia. E in più tratti bonus di personalità e skill basate sull'appartenenza a una casa piuttosto che a un'altra. Che so, i Tassorosso hanno un bonus pollice verde per coltivare le mandragole, i Corvo Nero hanno un minor tempo di latenza nel caricare le barre di energia, le super, eccetera. I serpeverdi hanno più soldi e carisma, le sto buttando così a casaccio, però sicuramente dovrebbe avere più senso il fatto di appartenere ad una casa piuttosto che un'altra, perché effettivamente nel gioco allo stato attuale cambia solamente che c'è una missione specifica per ogni casa, e si va a dormire, tra virgolette, in un dormitorio, si ha accesso ad un dormitorio piuttosto che ad un altro, e gli altri è difficile riuscire a visitarli. Però alla fine nel gameplay e nelle amicizie cambia praticamente zero. Ed è un peccato. Una delle cose più richieste da tutti, in assoluto, è la necessità di una revisione del sistema di utilizzo delle magie oscure, soprattutto le maledizioni senza perdono. perché è figo come vengono scoperte e imparate, perché il subplot con Sebastian è carino. Il problema poi è che nel momento in cui le impari e soprattutto le utilizzi perdono la loro, come dire, la loro importanza dark. ci vorrebbe maggior difficoltà nell'impararle, ci vorrebbe maggior difficoltà nell'usarle, perché non è solamente una questione di tempo di ricarica, e ci vorrebbero delle penalità a seguito dell'utilizzo di un certo tipo, tutto da vedere. Sicuramente ci vorrebbe un sistema morale che ti inchioda alle tue responsabilità, perché non è possibile che sparo un simpatico avada contro un mago oscuro, tutto a posto, perché tanto quello è cattivo. No. Anche perché c'è un trofeo basato sul ribaltare le mucche con Filipendo. quindi, se ci si vuole perdere tempo, si può creare tutta una serie di shenanigans relativi all'utilizzo o meno di alcune magie in alcuni contesti. Rinnovare la mappa è un'altra cosa che andrebbe fatta. Personalmente non sono uno dei detrattori del girovagare per le islands, personalmente ho adorato farlo. La metropolvere l'ho usata poco perché mi piaceva viaggiare sulla scopa o sul testral, sul grifone, a seconda del momento. E non ho trovato le islands vuote o dispersive come altri giocatori o colleghi. Per me si può anche espandere la mappa e farci visitare anche luoghi più lontani ancora, come Diagon Alley o Stonehenge o Parigi, tramite portali e passaporte. Ma bisogna mettere un focus maggiore a missioni all'interno e nelle immediate vicinanze della scuola. Perché il gioco si chiama Hogwarts Legacy. E il girare all'interno della scuola è una delle cose più belle in assoluto. E una delle cose meno belle che ci stanno nei film è quando negli ultimi due film della saga base e nel primo film di Animali Fantastici, Hogwarts si vede poco e niente. Vabbè, sì, chiaramente nell'ultimo film c'è la battaglia finale a scuola, però quello che voglio dire è che quando vanno in giro per fratte non c'è l'elemento scolastico. E questa cosa dell'elemento scolastico invece deve essere prominente. Perché purtroppo il gioco è abbastanza fallimentare nel far vivere la vita scolastica. In tutto il gioco non ci sono che una decina di lezioni che in pratica sono filmati. Boh, ora non dico che ci deve essere una scheda di ulfittissima come in certi JRPG come persona, però avere almeno l'impressione di frequentare davvero le lezioni e viverne le esercitazioni, anche con qualche minigioco un po' più strutturato che stanno in altri giochi di Harry Potter mobile, ci stanno i minigiochi delle lezioni, quindi non è che non si può fare, anzi. E sarebbe davvero un passo avanti, avere i voti, fare davvero gli esami, per finta, sarebbe molto bello. E poi sarebbe molto bello fare vita scolastica in generale, andando a dormire, a pranzo, sul serio, che passi dalla sala grande e c'è la gente che mangia e tu stavi andando a passeggio come se niente fosse. E invece ci dovrebbe essere la possibilità di studiare in biblioteca, passare del tempo con gli amici e ognuna di queste attività dovrebbe portare ad una serie di vantaggi e svantaggi come in altri JRPG o RPG in generale, insomma, che permettono di fare delle cose e avere delle conseguenze. Da quel punto di vista, prima l'ho citato, ma effettivamente è proprio, secondo me, un esempio cardine, un sistema alla persona, magari più libero, non rigidissimo con il passare della mattina, pomeriggio, sera, di ogni giorno e c'è un calendario scadenzato, preciso, più libero magari, però facendo percepire il fatto di essere studenti, perché praticamente il protagonista sembra quasi un ospite della scuola che arriva, quando arriva, fa quello che vuole fare, entra e esce, sembra che frequenta solo saltuariamente, quando gli va. A questo farebbe da contraltare anche un sistema di buddy, di companionship con i compagni di scuola, con cui creare i legami, situazioni diverse a seconda dei propri amici del cuore, magari anche un sistema di romance, chiaramente, perché no, anzi, cioè, voglio dire, in Hogwarts Mystery, l'hanno messo, perché non poterlo mettere anche qui, cose da RPG, non è che sto chiedendo la luna o cose che sono parte di altri generi, quindi, per esempio, un sistema che tiene conto delle risposte date in relazione ai dialoghi, alle richieste, alle risoluzioni delle quest con gli amici, i compagni di scuola, i professori, quindi che tenga da conto amicizie e nemicizie e tutta una serie di variabili che rendono l'esperienza diversa e ripetibile, perché se poi mi faccio un personaggio di un'altra casa, con altre amicizie, con altre attitudini, eccetera, sarà un gioco diverso, al di là delle missioni principali. Serve molto bello un'implementazione di una qualche modalità multigiocatore. Non è facile, perché questo è un gioco di base single player. Per esempio, si potrebbero fare delle missioni ride contro pericoli specifici in cui un gruppo di studenti, magari tutti i giocatori reali, si danno appuntamento per risolvere un problema che può essere un gruppo di bracconieri, un troll, con un sistema simile a quello di GILD, cioè, quindi stiamo parlando di Final Fantasy XIV. Al contrario, invece di aggiungere missioni single player, si tratta di aggiungere ride multiplayer, magari anche non legate alle case, ma si possono creare GILD con giocatori di case diverse, ma anche più semplicemente dei club che si scambiano prop, sementi, oggetti di vario tipo e che creano, magari possono anche creare una stanza delle necessità, un terrario comune, che è bello proprio perché c'è un apporto comunitario. Questo sarebbe anche molto figo. Un'altra cosa che potrebbe essere divertente sarebbe un club dei due ellanti online e questo potrebbe poi espandersi anche a tutta una serie di altri minigiochi, rendendoli competitivi online. Anche questo non è una cosa impossibile da realizzare. È che non è semplice. È che ne vale la pena? Ma, dipende. A tal proposito, si potrebbero sicuramente aumentare altre attività extrascolastiche. i passatempi, anche solo andarsi a prendere una burro birra o provare per davvero gli oggetti in vendita da Zonko. Cioè, semplicemente, la prima volta che entri da Zonko, fighissimo, entri, clicchi su tutti i vari giochini, tutte le varie cose in esposizione e poi finisci lì, non c'entri più. È un po' poco. Avere la possibilità invece di comprare oggetti specifici, di regalare agli amici specifici, si potrebbero fare tante cose. Fare gli scherzi ai professori, tante cose si possono implementare, ma ci vuole tanto tempo per studiarle bene. Questo lo riconosco, lo so, però renderebbe l'esperienza di gioco molto più bella. E si potrebbero implementare più sport. Ora, il Quidditch non lo vedremo. Perlomeno, non in un aggiornamento del primo gioco, sicuramente non lo vedremo. Potremmo vederlo in un secondo gioco, ma nel primo no. Troppo sbatti programmarlo e soprattutto non lo vedremo per un motivo molto semplice. Il Quidditch a breve avrà un gioco a parte, per volontà di Warner Bros. stessa. Quindi, se vorrete giocarci, dovrete giocare a quello. Per ora è in fase di beta testing, non si capisce ancora quanto avanzata, però si presumo che dovrebbe uscire quest'anno. Sarà un gioco a parte, è un free to play con il season pass, è anche carino se vi piace il Quidditch, ma sarà un gioco a parte. Non lo vedremo dentro Ghost Legacy. Però più semplice, così come c'è il gioco del... Non mi ricordo come si chiama. Quello delle biglie giganti che bisogna avvicinare il più possibile. Si potrebbe benissimo aggiungere anche il gioco delle cobiglie, lo sparaschiocco, gli scacchi magici. Cioè, sono cose che sicuramente si possono inserire. In Final Fantasy VII, Rebirth, ci saranno tutta una serie di minigiochi all'interno del Gold Souser, quindi non è che non si possono fare. Anche in questo caso, vale la pena provare a farli? Sì, perché dal punto di vista dell'immersività e dell'aggiungere qualcosa all'esperienza di gioco, sicuramente sì, è chiaro che non è la priorità. Parliamo dei negozi. I negozi che sono aperti a ogni ora del giorno e della notte sono una cosa che non capisco. A livello di sensatezza ci stanno delle cose nel gioco che rendono poco. La classica cosa di entrare in qualunque casa, a qualunque ora, non ha molto senso. di rubare le cose nei bau, cioè, poteva avere senso vent'anni fa, trent'anni fa, nei primi RPG. Ok, ora che i giochi tendono ad essere realistici, ovvero simili, il fatto di poter entrare nelle case, addirittura scassinandole, perché se ci stanno i lucchetti e tu li devi fare con Halo o Mora, e tu stai rubando, cioè, non è che ci giriamo molto attorno, tu stai scassirando una... un conto è una quest in cui tu ti intrufoli nella cantina di Mielandia e c'è una quest apposita e a questa cosa ha senso. Un altro che c'è una casa chiusa e tu la scassini, entri dentro, ti rubi le cose dentro i forzieri. Oh, cioè, scusa, no. Perché non è un... non è Baldur's Gate, è UGORS Legacy, tu sei uno studente e stai andando in giro a scassinare roba. No, cioè, perché? A parte questo, e a parte il fatto che i negozi sono aperti 24 ore su 24, e anche questo non ha molto senso, perché posso capire un pub, ma non ha molto senso il fatto che starà a Censons si è aperto pure alle due di notte. No, però vabbè. Servirebbe sicuramente un indicatore che nei negozi ti dice automaticamente se quel determinato capio di vestiario che stai guardando ce l'hai già o no, come skin indossabile, perché un sacco di volte mi è capitato aspetta, ma questo ce l'ho, non c'ho, perché poi magari a livello di statistiche quel vestito non ti serve, però non l'hai trovato in giro e non sa se lo troverai in giro e quindi te lo vuoi prendere? Cioè, spendi quei... quegli spicci per avere la skin in più da poter indossare. E il problema però è che comunque non vuoi sprecare, quindi ti viene in mente qual è l'oggetto, esci, vai a controllare nell'inventario se ce l'hai e poi torni. Perché fare tutto sto giro? Non puoi semplicemente far... rendere visibile se quell'oggetto ce l'hai o ce l'hai mai avuto e quindi ti può servire o meno come skin? Ma anche una cosa più banale del mondo, cioè quante... quanti campioni di una determinata merce hai già, che siano erbe o componenti animali o rocce, eccetera. ho già 300 pietre di luna, me lo vuoi dire? Per quanto riguarda i vestiti, inoltre, secondo me sarebbe bello anche poter cambiare a piacimento il colore degli stessi. Magari si recupera l'indumento col colore base, ma se si è portato a termine una missione specifica che sblocca l'incanto colovaria che è quello che serve per cambiare il colore delle cose, si può appunto cambiare il colore del... del capo di vestiario a piacimento e quindi poi si può anche creare un outfit completamente originale. Io non dico di poterli disegnare o aggiungere oggetti, eccetera, però cambiare il colore, cioè trovo quel modello di cappello da mago e lo trovo base nero, però se voglio posso farlo viola, posso farlo rosso oppure posso farlo verde con il bordino giallo perché mi gira così lo voglio abbinare con la sciarpa viola e voglio andare in giro di 300 colori. Sì, lo voglio poter fare. Una cosa che a me dà un po' fastidio, un'altra cosa che a me dà un po' fastidio è il fatto che effettivamente il protagonista fa fuori i mostri ok fa fuori i lupastri va bene ci stanno mostri fatti fuori in giro per la mappa vabbè come se fosse creati di rivia fa fuori decine di goblin come se niente fosse e rimangono là i corpi vabbè ho capito qua diventa il signore degli anelli ma non è chiaro cosa succede ai maghi oscuri e ai bracconieri che mandiamo KO alcuni si capisce che si smaterializzano quando sono allo stremo molti però si accasciano morti apparentemente morti e poi scompagliano nel nulla io lo trovo bruttino perché effettivamente non si capisce se li hai stonati se sono morti e quindi se sei un pluriomicida un praticamente sei un giustiziere da notte cioè un vigilante uno studente vigilante cioè no però vabbè ok che stiamo parlando di fino a 800 ma comunque parlando sempre poi dei cattivi non sarebbe male se fossero un po' più carismatici nel prossimo capitolo quantomeno un po' più approfonditi cioè per dire Run Rock e Victor Rookwood funzionano ma solo fino a un certo punto potevano dare molto di più ed è un peccato che sono stati diciamo sottosfruttati non c'è un crescendo dei personaggi non c'è davvero una base forte e questo poi per non parlare degli altri perché sono tizi qualunque anche i villain cosiddetti famigerati se non ti vai a leggere la bio nei trofei non sei manco chi sono incontri sti tizi che hanno un nome non hanno solamente una descrizione bracconiere X e però vedi semplicemente che sono maghi oscuri più forti della media che hanno gli scudi parano meglio attaccano più forte però non ti danno una un'impressione di essere parte di una trama un po' più interessante ed è un peccato viste poi le premesse visto il fatto che chiaramente questo gioco è ispirato a The Witcher però le cose che davvero hanno reso grande The Witcher 3 non ci sono perché non hanno avuto il tempo di implementarle queste cose quali sono il fatto che gli NPG siano dei personaggi di un certo spessore con del carisma interessanti con un background che quello che succede ha delle conseguenze e a seconda di come giochi queste conseguenze si notano e cose che invece non non è stato possibile implementare in questo primo gioco un'altra cosa che gradirei sarebbe il non poter rivendere gli animali catturati o allevati cioè un controsenso perché di fatto diventiamo bracconieri noi stessi cioè a metà del gioco andiamo contro i bracconieri e poi possiamo rivenderci gli animali noi ma che senso ha gli animali in esubero potrebbero essere invece affidati a un png guardia caccia per esempio in cambio di item exp eccetera oppure un'altra cosa carina sarebbe affidare alcuni famigli ad amici fidati e questo porterebbe sempre ad altre conseguenze eccetera infine c'è una cosa che davvero non capisco come possa mancare in un gioco del genere il fotomod ok è accessorio però a molti io in primis piace fare le foto agli ambienti di gioco in questo in questo gioco per fare delle foto quasi senza indicatori hub bisogna fare un tedioso magheggio nelle opzioni disabilitando 300 parti singole degli hub e poi doverle riabilitare una per una flaggando tutte le varie voci e non è manco completa al 100% perché alcune cose rimangono invece servirebbero le opzioni tipiche di questa modalità viste in altri giochi come ad esempio in spider-man di insomniac e quindi le pose del personaggio o la possibilità di non metterci il personaggio le varie cornici i filtri il posizionamento della della telecamera la sistemazione delle luci e questo porterebbe a creare dei piccoli capolavori secondo me perché il gioco dal punto di vista scenografico merita davvero il punto di forza del gioco sono le ambientazioni io se ci fosse un photomod fatto bene 300.000 foto dentro al castello e invece non si può fare perché questa cosa è assurda ora di tutte queste cose che ho detto quante ne vedremo nell'aggiornamento di quest'anno tempo molto poche sicuramente verranno sistemati glitch i bug nodi ma per le funzioni aggiuntive promesse possiamo più che altro aspettarci qualche opzione in più qualche scorcia d'oia qualche revisione quality of life come si suol dire dell'esperienza tipo appunto la maggior possibilità di riassegnare i tasti relativi per esempio alle magie di utilità mentre per quanto riguarda le cose aggiuntive magari effettivamente lo metteranno nel photomod di sicuro possiamo scordarci interventi pesanti come il sistema di morale o di companionship perché quello lo vedremo nel secondo gioco o magari lo vedremo in un eventuale remake di questo primo gioco che vedremo su playstation 6 fra dieci anni non lo so sperare non costa nulla ma non ci spererei troppo almeno nell'immediato detto questo se questo video è piaciuto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi mettete un bel like e commentate qui sotto così discutiamo un po' di tutte le potenzialità mancate di questo gioco altrimenti almeno a un parer mio bellissimo alla prossima grazie a tutti